good morning si diciamo diciamo adesso è mezzogiorno ma io mi sono svegliato due ore fa poi mi sono riaddormentato quindi per me è come se fossero diciamo le dieci c'è mezza comunque è evidente che è mezzogiorno però comunque direi più mattinata inoltrata e non mattina prestissimo come è ovvio ma come dico in questi casi mister master maestro o semplicemente semplicemente david linch it's march 10 2022 and it's a tuesday here in naples 56 57 fahrenheit around 13 14 celsius and this means that non è quella giornata veramente veramente really cold as in these days in this period o at last for me perché come sempre io non soffre il freddo come soffre altre persone in questo senso I invite always you to watch il mio video che ho fatto a dicembre scorso for understand quali sono le due pratiche utilizzo per cercare non di vincerlo il freddo perché è impossibile ma quanto vediamo di combatterlo sì poi per quanto ho già nel video sui pensieri lo faccio sempre separato da questo come da inizio anno si interessa anche se oggi non lo so se lo faccio perché un altro video di ieri a retrato non sono riuscito a caricare quindi forse come video pensiero di oggi vale quello di ieri e poi però se penso altre cose oggi le aggiungo forse la descrizione di questo video ah sì and you'll just see from the window it seems that this afternoon anche se ormai comunque è già pomeriggio in fondo temperature forse salirà ancora qualche grado ma non sono sicuro io penso più che scenda ma vedremo but surely with this atmosphere we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way ovviamente all along the way qui altre 4 5 ore facendo poi essendo poi le 5 la sera bene sperando che non ci siano cambi clamorosi come dico sempre io ovviamente le cose posso sempre cambiare momento all'altro battasole su il sì ma non credo in questo caso say that it is so from the mythical window with the color of the curtain sublime oggi nulla da dire and it's green and it's green roller shooter behind me on the top and it's green roller shooter behind me on the top 440 ipg 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 625 e great day in world people follow the channel the reports su un saluto davvero a tutti casomai ci vediamo al video pensiero volvelo faccio ma non credo a domani i but i i top i Grazie.